Non si placca la polemica riguardo alla realizzazione del collegamento autostradale nel Billese. Orazio Scanzio, vicepresidente della provincia di Biella, con delega all'autostrada, ha replicato in conferenza stampa le osservazioni mosse dal Partito Democratico sulla Pedemontana. Noi quell'opera l'abbiamo ereditata da loro, ha spiegato. Il centro-sinistra vorrebbe la superstrada gratuita, ma il progetto di fattibilità messo in gara nel 2009 prevedeva il ticket anche per la superstrada attuale, Biella-Cossato. Scanzio ha poi annunciato il pedaggio previsto per i 40 km dell'autostrada. Ci sarà uno sconto del 20% in meno rispetto all'A4. Quindi, secondo il vicepresidente, con pochi centesimi di pagamento si risparmieranno decine di chilometri e di benzina. La provincia è riuscita poi ad ottenere la progettazione del maghettone, della tangenziale di Candelo e la realizzazione della strada corte a Cossato. E proprio quest'ultima servirà da tangenziale sud a chi dovrà attraversare Cossato e avrà quindi tre opportunità, l'autostrada, la strada del centro e quella della corte.